Chi siamo noi? FLECTOR! Combattiamo il dolore! Contro mal di schiena, dolori reumatici e articolari, puoi provare FLECTOR Cerotto. Ha una doppiazione e agisce fino a 12 ore. FLECTOR. Attivo come te. Dalla ricerca Ipsa. Prodotto in Italia. Dichiarazione di stile. Nuovo Toyota CHR Hybrid GR Sport. Coupé, SUV, ibrido. Tuo con bonus fino a 7.000 euro anche grazie agli econcentivi statali. Aiuto, sono di nuovo senza internet. Poi ho la soluzione giusta per te. Passa a Linkam. Per te. Scopri l'attivazione super veloce di Linkam e navighi a soli 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi. Università online e campus. 56 percorsi di laurea, lezioni, tutor ed esami online. Info all'800 410 300.